Un bel ritrovati dallo sport per l'Italia ma anche per l'Umbria della pallavolo quella di ieri è stata davvero una giornata trionfale. I azzurri di Fefe De Giorgi dopo 16 anni sono tornati sul tento d'Europa grazie ad uno strepitoso successo al tie-break contro la Slovenia nella finalissima di Katowice in Polonia. Il privilegio di alzare la coppa è toccato al capitano nonché nuova stella della Sir Conad Perugia Andrea Giannelli. Lo stiamo vedendo, si è giudicato anche il trofeo quale migliore giocatore del torneo. Davvero una soddisfazione straordinaria per il club di Gino Sirci che ha investito molto anche economicamente sull'ex regista di Trento. Giannelli non è stato l'unico Block Devils a laurearsi campione d'Europa, un contributo importante al successo azzurro. È arrivato anche dalla centrale Fabio Ricci e dal libero Alessandro Piccinelli.